C'è uno studioso che si chiama Henri Laborie che ha fatto un esperimento. Ha preso un ratto e l'ha messo chiuso in una gabbia. Sul pavimento della gabbia ogni tanto arrivava una piccola scossa elettrica. Il ratto si innervosiva, sviluppava ansia, il suo pelo era brutto, ispido e sviluppava malattie. Allora Laborie ha inserito un altro ratto nella gabbia. A ogni scossa elettrica i due poveratti litigavano fra di loro, se le davano di santa ragione, ma non sviluppavano malattie né ansia. Il loro pelo era bello e liscio. Questo ci ha fatto capire che se tu governante devi maltrattare una categoria di poveracci, devi mandargli una scossa elettrica, è bene che tu non prenda mai un gruppo isolato. Mettigli sempre vicino altre categorie di poveracci, così loro litigeranno tra di loro, se le daranno di santa ragione e a nessuno verrà in mente di guardare fuori della gabbia dove ci sei tu che osservi nascosto nell'ombra?